ciao dal castoro costruttore sommiamo fino a otto oggi ci divertiremo a contare fino a otto che succede formichine siete preoccupate dove mi portate ho capito non vi lasciano entrare perché la casa è occupata e non avete dove dormire non è un problema possiamo trovare una soluzione costruiamo una casa più grande per le formichine che non sanno dove dormire ma prima cosa dobbiamo contare quante sono da aiutare quante formichine vivono in questa casa una due tre quattro cinque cinque formichine hanno un tetto sotto il quale dormire ma due non ce l'hanno quindi cinque più due fa sette in totale abbiamo sette formichine amici dobbiamo andare a prendere dei blocchi per la nuova casa costruiamo un nuovo palazzo da quattro piani avremo due palazzi per tante formiche un blocco due blocco due blocchi tre blocchi quattro blocchi fatto andiamo e adesso mettiamo i blocchi uno sopra l'altro un blocco due blocco due blocchi quattro blocchi quattro blocchi più quattro uguale otto blocchi due palazzi con totale otto piani abbiamo aiutato le formichine adesso vediamo se tutti i conti tornano cinque due formichine più due uguale sette quattro piani più quattro uguale otto tre castori più cinque uguale otto castori alla prossima